Ciao a tutti! Anche oggi sono qui a Bracciano a casa di Giorgio Porcino. Ciao Giorgio! Ciao Fiorenza! E oggi abbiamo due schnauzzer medi e due pesale. Infatti lo schnauzzer è un cane tedesco, riconosce tre tagli, la taglia nana, la taglia media che abbiamo qui con noi oggi su questo tavolo, qui abbiamo una femmina di 15 mesi e un cucciolo di circa tre mesi e mezzo. Chiamolo cucciolo, è enorme! Qui si chiama Ulrich, è dell'allevamento di Giuliano Roberti, l'allevamento del... Aulerco. Esatto, praticamente è un cucciolo e quindi un po' crescerà, crescerà un pochettino più di questa femmina che abbiamo... Perché lui è maschio? Esatto, in maschio c'è un piccolo dimorfismo sessuale, quindi i maschi sono leggermente più grandi. E poi lo schnauzzer riconosce comunque anche una taglia gigante. Allora, le tre taglie hanno praticamente le stesse identiche caratteristiche, quindi sono cani che praticamente sono costruiti nella stessa identica maniera. Qui voi potete vedere questa bellissima femmina e la cosa più importante che esprime è più o meno la costruzione, sono cani estremamente solidi, robusti, quindi sia il nano che il medio che eventualmente il gigante hanno la stessa costruzione, quindi anche nel nano quello che noi dobbiamo riscontrare è proprio questa fisicità, questa spalla, questo collo massiccio, un rene corto, una bella groppa e angoli giusti. I colori che possono essere riconosciuti dallo standard sono quattro per il nano, quindi il pepe sale, come questi due che abbiamo, il nero totale, il bianco, esatto, rarissimo, e il nero argento, quindi è un nero con delle focature praticamente argentate. Sono cani estremamente sani, solidi e robusti, grandissimi guardiani. E si sente che sono robusti. Sì, hanno un peso specifico incredibile, è un piacere quasi accarezzarli. E qui con noi abbiamo sul tavolo finalmente, diciamo in un certo senso, una femmina integra. Integra cosa vuol dire? Con coda lunga e orecchie non tagliate. Lo standard, come dicevamo, è la Germania che ha deciso e quindi praticamente tutti questi cani non possono più, cioè a questi cani non si può più tagliare né coda né orecchie. Perché prima invece venivano tagliate? Prima venivano tagliate, diciamo, per un motivo forse più che altro tecnico e pratico, perché diciamo una cosa, Lo snarcio era un cane da guardia, viveva più o meno nelle fattorie, a contatto con il bestiame, a contatto quindi con tutte quelle situazioni che potevano essere anche stressanti per orecchie e coda. Quindi i cani da guardia purtroppo hanno avuto, oggi sicuramente meno, ma in passato naturalmente era un'attitudine di guardiani. Quindi l'idea di avere naturalmente in un cane, non si parla proprio di cani da combattimento, però dei punti di presa che poteva essere la coda o le orecchie in qualche maniera era un po' un piccolo deficit o in qualche maniera un handicap di partenza. Quindi praticamente le code venivano tagliate per questo motivo. Le orecchie naturalmente, anche quelle siccome sono molto molto sensibili, l'idea è che nel momento in cui un cane dovesse difendere, quindi essere aggredito o aggredire, aveva una, diciamo, un appiglio in più. E poi fondamentalmente, vorremmo spezzare una lancia, ma è una cosa molto banale, però comunque fa parte della realtà dei fatti, le orecchie naturalmente, diciamo, dritte, in qualche maniera danno al cane un look, diciamo, in questo senso, molto più attento, molto più vigile. Più aggressivo. Sì, più aggressivo, però al di là di questo, diciamo che l'igiene del padiglione auricolare, naturalmente in un cane con un orecchio, diciamo, molto leggero, alto, aperto, in qualche maniera è mantenuto, mentre le orecchie, diciamo, basse possono, non tanto forse in queste razze, però anche in razze molto molto pelose, le vedremo in futuro, creare dei problemi. Quindi le attenzioni che magari il proprietario doveva comunque dare alle orecchie erano sicuramente inferiori, molto molto ridotte, nei confronti di un cane con un orecchio piccolo e tagliato. Questo, infatti, si parlerà poi anche di cani di grossa taglia, insomma, mastini napoletani, i cani corsi, tutti quei cani che hanno un'attitudine o avevano comunque un'attitudine e dovevano comunque difendere, quindi eventualmente attaccare o essere attaccati, meno punti di presa e di attriggio avevano. Oggi comunque lo standard è stato revisionato, l'idea è che comunque un cane integro a questo punto per tanti e tanti motivi ha comunque un significato diverso, quindi gli schnauzzer, da oggi in poi li vedremo tutti, con coda integra ed orecchie integre. Senti, punti deboli di questa razza? Guarda, diciamo praticamente nessuno, non ci sono delle... Sono delle rocce, proprio. Sono delle rocce, sì, sono dei gran soldatini, non hanno, diciamo, delle patologie particolari. Attenzione che qui forse Rurik si potrebbe anche... Si lancia. Si potrebbe anche lanciare. Allora, l'idea è quella di avere comunque un cane che, a seconda della taglia, può in qualche maniera... Rurik si è intrippato col mio orologio. Allora, di avere comunque un cane estremamente, innanzitutto, sano e solido. Poi, a seconda delle nostre esigenze, potremmo avere un'opzione per un nano, un medio o un gigante. Le caratteristiche sono per i tre caratteri, cioè per le tre taglie praticamente identiche, quindi un'intelligenza veramente esagerata, capacità di affezionarsi alla casa e al padrone, buonissimi con i bambini. Poi, se dovessimo scegliere una razza, diciamo, quindi nel nano o nel medio, diciamo, anche le attitudini praticamente a vivere un appartamento sono eccezionali. Perché cosa succede? Loro, come vedete adesso, sono dei cani naturalmente toilettati, quindi qui abbiamo un tavolo di toilettatura e praticamente sono dei cani che comunque hanno, diciamo, una forma e una linea che è data praticamente dalla toilettatura. Questo cosa permette? Permette praticamente di non avere peli in casa, perché il famoso, sempre come dicono gli inglesi, misunderstanding è quello di dire prendo un cane a pelo corto, meno male il mio cane a pelo corto non perde pelo. Questa è una grossissima inesattezza, perché purtroppo chi ha un cane a pelo corto, e qui vogliamo in qualche maniera fare i nomi, facciamo i nomi, chi ha un dalmata, il poveretto ritrova i peli del dalmata praticamente infiato nei divani, nelle mochette, nei tessuti, per anni e anni, perché sono veramente così, questi, oh mio amore, non cadere, questi, questi... Il nostro tavolino, ok, il tavolo quello da esposizione, niente, comunque è un po' ristretto, è un po' ristretto. Quindi invece questi cani, diciamo, con questo pelo, praticamente hanno bisogno un paio di volte l'anno di essere affidati al, diciamo, alle sapienti mani, naturalmente, di un bravo toilettatore, che farà, che cosa farà il toilettatore? Il toilettatore non farà altro che un paio di volte l'anno asportare, ci sono dei coltellini fatti apposta, di asportare praticamente tutto il pelo morto che in realtà rimane poi attaccato, e facendo sì che cosa? Si chiama questo... Il nome viene in inglese, stripping, lo stripping è praticamente asportare questo pelo morto, quindi si ridà al cane la sua rina originale. Noi non avremo mai assolutamente un pelo a casa, perché comunque viene asportato, come ripeto, due volte l'anno. Quindi mi stai dicendo che questi cani non perdono pelo? Esatto, come dicevamo poc'anzi, basta due volte l'anno affidarli alle mani di un bravo, diciamo, toilettatore, che porterà via con... ci sono degli strumenti particolari, quindi questo si chiama stripping. Lo stripping non è altro che un piccolo coltellino con delle lame, così, ma è molto... è una cosa molto delicata, e, come dicevo prima, le sapienti mani, quindi chi è a casa può naturalmente rubare con gli occhi, ogni tanto provare a fare qualcosa, però per dare questo look, conviene farlo fare da chi è in grado di... Questo coltellino, che è piccolissimo, passato sul pelo del cane, in maniera molto delicata, non fa altro che togliere una piccola lanugine e tutto il pelo morto in realtà che avanza, dando praticamente la linea. Questo cosa fa sì? Fa sì che il nostro cane non perderà mai pelo a casa, e non è poco. Quindi questo, due volte l'anno, lo fa il toilettatore. A casa basta tenere un cardatore, un cardatore è una spazzola particolare fatta con dei piccoli... Dentini di metallo. Dentini di metallo, esatto. Questa spazzola, se tutti i giorni, un paio di volte alla settimana, viene passata in maniera molto, molto veloce, altrettanto, diciamo, energica, e anche questa asporterà questa lanugine. Questo farà sì che il nostro cane non perderà mai pelo, sarà sempre in ordine. Giorgio, una cosa, ma il segreto per riuscire a mantenere questa barba così perfetta, perché questa è un banale pettine, un banale pettine, anche con questo, naturalmente dopo magari le colazioni o le cene, basta solamente pettinare, come si possono pettinare, non so, qualsiasi altro tipo di pelo, solo per la barba. Ti ripeto, quindi è un cane che noi vorremmo, specialmente a seconda delle nostre esigenze, prendere in considerazione un nano o un medio, se in effetti dovessimo mai avere un appartamento, è un, abbiamo detto, un cane che non ha patologie, quindi, insomma, ringrazionando il cielo, sono cani estremamente sani, solidi e robusti, intelligentissimi, ubbidienti, sono veramente dei soldatini, adatti a tutte le persone, perché comunque hanno un indole che si può perfettamente adattare a bambini. Diciamo l'altra volta, per esempio, che non è il caso di mettere vicino a un bambino piccolo un chihuahua, perché comunque un chihuahua ha comunque una taglia che non permette, mentre invece è molto più carino, non dico carino, ma molto più solido, uno schnauzzi che comunque capisce perfettamente di avere di fronte un bambino, quindi caratterialmente è ideale, però è un ottimo compagno di giochi. Se invece le nostre esigenze dovessero essere in qualche maniera, diciamo, più o meno con situazioni di cane da guardia, perché no? È un grandissimo cane da guardia. Quindi è ottimo per una famiglia, con dei figli, cane da guardia, amico, con dei figli, questa dimostrazione pratica della loro guardia. Senti degli amici e loro giustamente hanno detto, qui ci sono degli estragni, per quali motivo chi sono, non li abbiamo mai visti. Senti Giorgio, una curiosità. Il piccolo, guarda il piccolo. Sì, sì, chiamiamolo piccolo, continuiamo a chiamarlo piccolo. Esatto. Senti, una curiosità, ma il fatto che abbiano sempre gli occhi coperti dai cipi di piedi può comportare... No, assolutamente, è una protezione che si dà agli occhi. Il cane vede benissimo anche con questi ciuffi sugli occhi, quindi questo li protegge dalla polvere, dal sole e mantiene sicuramente un bulbo oculare molto più protetto. Quindi abbiamo detto, questi due schnauzzer sono dei pepe e sale, i giganti riconoscono come colore anche loro il pepe e sale e il nero. Un'altra cosa che vorremmo aggiungere è allora che la taglia originale dello schnauzzer era questa. Infatti ci sono addirittura dei quadri di Dürer del 1400, ci sono delle rappresentazioni di questo schnauzzer. Non ti mangiare il cardatore. Questo per farvi capire che quando avrete mai un cucciolo a casa vostra, fate attenzione perché acchiappano l'acqua lunga. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa per loro è motivo buono. Quindi sono scuse, Anni Giorgio, sono cani antichi. Anche loro. Cani antichissimi, sì. Diciamo, le prime rappresentazioni addirittura del 1400, la taglia originale era questa, il medio. Poi dal medio hanno selezionato naturalmente la taglia gigante e la taglia nana. Però diciamo la taglia originale era questa. E in origine venivano utilizzate sempre per la guardia? Sì, come abbiamo detto, grandissimi guardiani della casa, affettosissimi con le persone, riconoscono comunque, come quasi tutti questi cani, un solo proprietario. Una cosa importante che vorremmo solo aggiungere prima di salutarci è che naturalmente nel momento in cui le nostre caratteristiche, o i nostri desideri ci suggeriscono di prendere uno di questi cani, sono cani che comunque danno tantissimo e hanno comunque bisogno però di avere forse un pochettino di polso. Quindi sono cani, specialmente per le taglie grandi, che non è che debbano essere obbligatoriamente addestrati, però sono cani che hanno comunque bisogno di avere un padrone che sappia... Il famoso capobranco. Il famoso capobranco, esatto. Perché per loro è importantissimo comunque riconoscere nei componenti della famiglia un capobranco, qualcuno a cui debbano obbedienza, rispetto. Tutto questo naturalmente ci darà... Comunque un cane equilibrato, ricordatelo sempre in generale che i cani, per quanto sia, specialmente queste taglie, noi adesso stiamo parlando di medi, però in quanto poi magari vedremo anche taglie più grandi, hanno sempre bisogno di qualcuno che in qualche maniera, non proprio insomma li domini, ma che insomma sia un bravo amico, compagno, ma al momento giusto anche un buon padrone, quindi con un pochettino di polso. Grazie Giorgio, anche per oggi è tutto, preziosi consigli, ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti. Grazie a tutti.